Le parole ormai famosissime che ha detto Giorgetti sei giorni fa parlando della manovra finanziaria ha detto sacrifici per tutti ci saranno nella nuova manovra e questo ha gettato un po' nel panico il governo comunque forti fibrillazioni sull'aumentazione soprattutto oggi si è scatenato il dibattito sull'aumento della tassa per la casa tanto che Giorgia Meloni è stata costretta a fare un video nel tardo pomeriggio e ha smentito praticamente il suo ministro dell'economia ha detto Meloni è falso che aumentiamo le tasse questo lo fa la sinistra noi le abbassiamo tu cosa hai capito? Ho capito che Giorgetti ha detto una parola tabù una parola vietata sacrifici non la si sentiva dai tempi del governo Monti detto questo noi abbiamo lì nel 2023 abbiamo avuto un rapporto deficit PIL del 7,4% un arido numero certo però io mi ricordo fino al Covid vertici europei che duravano giorni per stabilire se si poteva sforare del 2,4% anziché del 2,04% adesso siamo al 7,4% poi è stato sospeso il patto di stabilità il Covid è finito da 4 anni però e adesso bisogna recuperare punto il nostro deficit il rapporto deficit PIL è il più alto d'Europa i secondi sono gli ungheresi del nostro amico Orban Terfi i romeni in più noi abbiamo 3.000 miliardi di euro di debito pubblico in cui secondo gli analisti se ne aggiungono almeno un altro miliardo di 3.000 miliardi di euro di debito pubblico in cui se aggiungono altri 1.000 miliardi di crediti inesigibili quindi sarebbero quattro è ovvio che quindi un ministro dell'economia responsabile dice oh qui bisogna fare un sacrificio però però lo sacrificio non si può dire ma l'opinione pubblica cosa capisce perché se il ministro dell'economia dice una cosa più sacrifici per tutti e la Presidente del Consiglio è costretta a smentirlo aumentare le tasse sulla casa la destra non può permettersi di farlo darebbe proprio meno a un suo dogma fosse nella Schlein farei attenzione a parlare di così facilmente di patrimoniale io conosco lo schema del PD pagheranno soltanto i ricchi ma i veri ricchi sono già da tempo il Principato di Monaco in Sviffera se non alle Caiman e rischio alla fine che la patrimoniale le paghino i soliti noti quelli che già contribuiscono all'IRPEF lavoratori dipendenti, pensionati, il PD è l'unico partito del mondo che aumenta le tasse ai suoi elettori cosa che la Meloni Mario Secchi non vuole assolutamente fare